Buongiorno! Sto passeggiando come al solito e adesso attraverserò la strada. Ecco, questo è l'incrocio. La luce del semaforo è ancora rossa. Quando la luce diventa verde potrò attraversare. Tra un po' scatta il verde. Questo è per i pedoni, questo è per le biciclette. Sta passando un autobus. Il semaforo è verde. Andiamo! Attenzione! Quando si attraversa la strada bisogna guardare a sinistra e a destra. Ok? Ciao ciao e al prossimo video! Grazie a tutti!